Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra Cole Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena fino al 28 settembre è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale una Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale Trebis Tiberina tratto chiuso per lavori tra Canili e Verghereto in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, sono in corso i lavori di risanamento stradale in piazza San Marco tra via Cavour e via Lapira. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!